Come quel trattore che c'è a pievetta con il T-Led Ma fai video? Come quel trattore che c'è? Allora questa sera, il mio e i miei goli. Meravigliosi, due timonici della prestità normativa e di rinche. Rieccoli, guardate, guardate il spettacolo meraviglioso con i fuochi d'archificio. Durante le loro evoluzioni, qualcosa di veramente particolare e magico. Guardate che se il cielo fosse ancora più giro, stiamo comunque a vedere e a distinguere molto bene le scie di colori che rilassano i due piloti del Swift Team a Gandora per Airshow 2013. Chiudiamo quest'importante giornata di prova con quella che è l'esibizione. Sì, guardate che le scie di nonno come come in se rilassano questi due euro. Sì, guardate che le scie di nonno come come in se rilassano questi due euro. non so se ci rende la stessa magia, chiaramente, questa dimostrazione di volo che non scosse già troppo per tutto l'incremento di questo stramontro che ha scurito il cielo e ci permette di vedere un'esibizione davvero spettacolare che ci sta tenendo tutti con il naso all'interno. Sì, noi due euro, uno con una miglioro insalato blu, la partiglia crotatica con una migliora e un salato grum, la partiglia crotatica, ricordiamo alle due delle imprese, il Swift Team è molto meglio che cimilia L' guadaglio Grazie a tutti!